Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La conduttrice di Merissimo dovrà rimandare un appuntamento al quale tiene molto Che decisione avrebbe preso suo marito Pier Silvio? Silvia Toffanin è legata dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset Dal 2004 la donna è alla conduzione di Merissimo su Canale 5, uno dei programmi di maggiore successo, in onda nella fascia oraria pomeridiana del weekend Ma cosa è accaduto fra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Ecco la decisione presa da suo marito Silvia Toffanin è l'ordine di suo marito Pier Silvio.Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, sono genitori di due splendidi figli Ci riferiamo a Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e a Sofia Valentina, nata nel 2015 Nella giornata di ieri, mamma Silvia e papà Pier Silvio, hanno festeggiato il settimo compleanno della secondogenita Lo hanno fatto a Portofino, insieme a pochi familiari e a qualche amichetto della festeggiata Silvia Toffanin è entrata nel mondo dello spettacolo nel lontano 1997, grazie alla partecipazione come concorrente a Miss Italia In seguito, si è fatta conoscere come letterina nel quiz televisivo Passaparola, condotto da Gerry Scotti, fra il 2000 e il 2002 Ma che cosa è accaduto nelle ultime ore? Cosa avrebbe fatto infuriare Silvia Toffanin? Ecco tutti i dettagli La decisione.Con l'inizio di Verissimo, programma che tornerà in onda sabato e domenica prossima Con il consueto doppio appuntamento pomeridiano del weekend, tutti sono in trepidante attesa di un'intervista in particolare Ci riferiamo a quella della Toffanin con Ilari Blasi, protagonista del gossip degli ultimi mesi dopo la separazione da Francesco Totti Ma per il momento i fan del programma e di Ilari dovranno aspettare Infatti, Pier Silvio non avrebbe ancora dato il consenso a sua moglie Silvia per l'ospitata a Verissimo della Blasi O almeno questo è quello che sta trapellando in queste ore.In attesa dell'intervista pubblica di Ilari dopo l'addio a Francesco Totti La Toffanin tornerà, come detto, in televisione con le prime due puntate di Verissimo, in programma, sabato 17 e domenica 18 su Canale 5 a partire dalle 16 30. Ospiti del programma saranno, Francesca Chilleni e Gianni Amen, attori protagonisti dell'attesissima fiction media set viola come Il Mare, ma non mancheranno altre sorprese Infatti, saranno presenti in studio anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti, prossime opinionisti del Grande Fratello Vip, Federica Pellegrini ed Elodie Finita qui? Assolutamente no. Infatti, ci saranno anche i campionissimi di atletica, Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs In attesa di Ilari, quindi, le sorprese non mancheranno.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video